Io penso che al di là del fatto che il primo sarà Vinicius e il secondo Rodri, io li avrei invertiti ma i primi due sono quelli Nel gruppone dei terzi per me Lautaro ha buone possibilità perché se la logica è Vinicius, grande campione, ha vinto Scudetto, Champions, fine Rodri ha vinto Scudetto, europeo, fine Lautaro è stato capograniere del campionato e della Coppa America, ha fatto una Champions non pervenuta Però comunque ha due titoli, vinti da protagonista e quindi se la logica è quella dei titoli Lautaro nei tre ci sta al terzo posto Secondo me invece è più giusto andare su Bellingham anche per il suo respiro maggiore Ha fatto anche finale europea pur non giocando un grande europeo Secondo me Lautaro sarà quarto o quinto Però se la logica è quella dei titoli che spesso orienta questo tipo di premi Perché non terzo? Assolutamente Allora questo era uno dei temi che avevamo messo sul piatto anche per un'eventuale lascia Però eravamo tutti d'accordo Siamo tutti abbastanza d'accordo Carval, però Carval con tutto il rispetto Un ottimo quinto posto È stato il match win nella final di Champions però Lautaro secondo me ha numeri migliori di Carval Allora ha detto che dalla Spagna giunge voce che più o meno è già deciso Non dovrebbe vincere Vinicius Io sono dell'idea che se deve essere premiato il più forte, il più bravo Perché in teoria il pallone d'oro non è quello che ha vinto di più giusto? Certo In teoria In teoria no Se bisogna premiare il più bravo Rodri per me non ha rivali da questo punto di vista Per quello che ha fatto non solo quest'anno ma anche nelle ultime stagioni Ma dal mio punto di vista però so perfettamente come funziona il pallone d'oro Cioè il pallone d'oro tendenzialmente guarda molto agli attaccanti, ai gol I giocatori di Real Madrid I giocatori di Real Madrid è quello che hai vinto Sono assolutamente d'accordo sul fatto che posto che per me Rodri è il più forte Per me Lautaro sul podio ci può stare Perché comunque sia ha fatto delle cose importanti